Pronto professore, sono la dottoressa Orvina Berti Bischat, come va, come sta? Mi scusi tanto se la disturbo, però purtroppo abbiamo un po' di problematiche all'interno del centro con il nuovo gruppo terapeutico, come al solito purtroppo la prescrizione farmacologica che lei ha giustamente, assolutamente prescritto purtroppo non ha sortito gli effetti sperati ecco, quindi io volevo consigliarmi con lei su come poter procedere insomma nelle prossime sedite. Sì, non è una questione di disponibilità dei farmaci perché in ogni caso comunque la casa farmaceutica si è comunque resa disponibile per farci avere il farmaco in tempi brevi ma guardi, in realtà non abbiamo riscontrato veramente dopo una decina di sedute ancora alcun miglioramento, anzi è aumentato il livello di intolleranza reciproca, durante la seduta sì, no non abbiamo verificato effettivamente anche i livelli, quindi lei mi consiglia di aumentare la dose nello stesso tempo, di rifare il check up iniziale per riuscire a capire bene, bene io la ringrazio tanto professore, scusi ancora di averla disturbata, ma sa qui la situazione come lei sa, il gruppo è numeroso e noi siamo da soli a gestire la situazione sì, abbiamo già dovuto richiedere l'intervento due o tre volte degli infermieri perché purtroppo ci sono state situazioni un po' di forte disagio e va bene, la ringrazio tantissimo professore spero di non doverla disturbare più, arrivederci grazie a tutti